Ciao a tutti, Gary Primich dall'album Boderation, il primo brano, Hard to Hard Floor. Allora, il brano è in Do, lui la suona in seconda posizione con un'armonica in Fa basso, quindi cano in Do, armonica in Fa, in questo caso l'assolo di Gary Primich è in Fa basso, l'armonica è in Fa basso. Ok, allora andiamo all'assolo. Allora, 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 All ok questo è da solo allora vediamo come inizia l'armonica è in fa basso inizia dal secondo fluo da aspirare qua è uguale ok fino a qua chiude con un'ottava il primo e il quarto foro aspirato quindi a ottava lui suona dal primo al quarto foro insieme con la lingua che va a chiudere sul secondo e il terzo foro quindi rimangono cioè l'aria passa tra il primo e il quarto foro quindi abbiamo l'ottava un po' di vibrato allora ok vediamo questa prima parte si inizia dal secondo foro aspirato di nuovo di nuovo poi inizia sempre uguale qua c'è uno non so se si vede prima foro aspirato quindi ottava ok 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 tendiamolo e lo facciamo insieme uguale ottava ecco adesso andiamo avanti andiamo facciamo insieme da capo facciamo insieme da capo insieme da parte che è da solo continua con le ottave sul terzo e sesto foro soffiato sempre adottava quindi lui chiude il quarto e il quinto foro con la lingua al centro e fa passare l'aria al terzo e al sesto foro soffiato terzo e sesto foro per ottenere quindi ottava in fa basso dei simone castro mart allora quindi andiamo avanti prende tutte le quattro le noti dal terzo al sesto foro prende tutte le noti insieme e con la lingua va a chiudere sul quarto e il quinto quindi la lingua sbatte diciamo sul quarto e il quinto foro ok andiamo avanti secondo foro aspirato aspirato